Le segnalazioni alla nostra redazione e al vicepresidente della commissione di garanzia non accennano a fermarsi. Le fotografie dei degenti del Policlinico San Matteo parlano da sole, raccontando, attraverso le immagini, la qualità del cibo offerto alle persone ricoverate, ma anche al personale. Le ultime raccolte non si discostano da quanto spiegato negli ultimi mesi. Il caso sarà affrontato nuovamente in comune dalla commissione di garanzia di Palazzo Mezzabarba, che si riunirà per l'occasione mercoledì 26 ottobre in sala consiglio. Sarà udito l'avvocato Paolo Piana, rappresentante del comune di Pavia, all'interno del consiglio d'amministrazione del Policlinico. Le segnalazioni continuano e stanno continuando ancora di più. Nulla è cambiato, infatti mi avvisano, mi contattano della qualità del cibo che viene offerto, quindi che è scadente. Finalmente, dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto con missione, mi sembra, il mese di luglio, si è deciso di fissare l'incontro. L'avvocato Piana era già stato ascoltato dalla commissione di garanzia lo scorso 10 maggio. Il verbale della riunione aveva confermato tutte le criticità e le perplessità raccolte negli ultimi mesi riguardo alla qualità del servizio mensa erogato ad agenti e personale del Policlinico San Matteo. Lo stesso Piana aveva spiegato che Fabbro, a cui il servizio è appaltato dal 2018, è un fornitore al quale bisogna stare addosso e sorvegliare diligentemente. Queste le testuali parole del rappresentante del comune nel consiglio d'amministrazione. La nuova audizione sarà fondamentale per capire quali interventi siano stati messi in campo e come si procederà nel prossimo futuro, visto che l'appalto per il servizio mensa del Policlinico è in scadenza. Questa settimana sentiremo di nuovo il nostro rappresentante e lì vediamo un po' come è messa la situazione, se gli organi dirigenziali hanno preso qualche decisione oppure meno. Infatti è una questione che a me mi sta molto a cuore, sta a cuore sulla qualità dei cibo, soprattutto per i bambini, per il reparto pediatrico, quindi è ingiustificabile che vengano offerti da parte di questa società un cibo quindi immanciabile.